Ciao, sono Lores e sono una studentessa a Simo, a un passo dall'esame finale. Nell'ottobre 2020 ho aperto il mio centro olistico e l'ho chiamato VESAC Center, dove posso mettere in pratica tutto ciò che ho imparato alla scuola Simo. Prima facevo tutta un'altra cosa. Arrivo da un mondo professionale completamente diverso, dove la situazione era molto statica e a un certo punto della mia vita, intorno ai 45-46 anni, ho sentito il desiderio di cambiarla. Questa vita non mi dava più la soddisfazione che volevo, ma non sapevo neanche cosa iniziare. Fino a quando c'era tutto inizio, mi sono imbattuta nella scuola Simo e lì ho capito che era il mio cancio d'inizio. Per me è molto bello ritrovarmi in quest'aula, perché è proprio qui che tutto ha avuto inizio. In quest'aula ho respirato l'aria che si respira nella scuola Simo, cioè si entra in una dimensione diversa che ti amplia la visione e se sai cogliere i segnali che arrivano da questa atmosfera particolare, puoi mettere in atto il cambiamento che io poi ho sempre cercato e desiderato. Il mio cambiamento è stato dettato dal coraggio, dal saper andare oltre, da non limitarsi a dire ormai. Questo grande coraggio ti viene superando le credizze di tanti, anche del mondo materiale, della paura di non farcela e tutto questo lo puoi imparare soltanto qua in questa scuola. Posso raccontarvi di un signore che è venuto da me, un imprenditore, e mancava il coraggio di staccarsi dal legame paterno, con il papà e anche dall'impresa gestita da lui e dal padre. E dopo un percorso che ho sviluppato con i Riceri Curiosi, che è un percorso che si fa parallelo a tutti gli esami della scuola Simo, e con l'unione degli oli essenziali e dei fiori di manca siamo riusciti ad ottenere questo distacco. Tanto che ora quest'anima splendida ha deciso di vendere l'azienda e ha deciso di iscriversi alla scuola Simo per intraprendere anche lui il cammino da naturopoda. Tra l'altro con accanto una moglie che lo sta sostenendo e probabilmente questo percorso lo fanno sicuramente, anzi lo stanno facendo insieme. Intanto perché già dall'inizio del percorso ti dà degli strumenti validi per poter iniziare anche nella maniera pratica lavorare, in modo che arrivi al quarto anno che il coraggio ti viene anche perché hai imparato proprio nella maniera pratica come lavorare sulle persone. Per me è qualcosa però di più, è un po' come è diventata una compagna di vita, perché siccome la scuola Simo è in continuo evolversi, permette anche a me di rimanere in continua evoluzione. Quindi per me la scuola Simo non finisce mai. Mi è amica, io seguo i corsi, soprattutto seguo il percorso Sceli di Splendere, e questo permette a me di continuare il mio percorso di evoluzione. La scuola Simo mi permette di lavorare su me stessa e di mantenere in equilibrio i tre piani dell'esistenza, quello fisico, psichico ed energetico, e questo mi permette di trasmettere questo equilibrio anche a tutte le anime splendide che si rivolgono a me e a tutte quelle che incontro nella vita di tutti i giorni. Grazie a tutti.